Atletica Atletica, McVa si qualifica per la semifinale dei 200 metri Atletica, McVa si qualifica per la semifinale dei 200 metri All'atleta del Botswana era stato negato l'accesso allo stadio per la finale dei 400 metri, ha corso da solo la batteria L'atleta del Botswana Isaac McVa è stato autorizzato dalla JAF a correre la gara dei 200 dei mondiali di atletica a Londra Il velocista è sceso in pista da solo alle 18.40 ora di Londra per correre la batteria dei 200 metri chiudendo in 2020, un tempo che gli ha consentito di qualificarsi per la semifinale che si correrà alle 21.55 ora italiana L'atleta africano ieri era stato bloccato da un funzionario governativo mentre, sfidando il parere dei medici, tentava di entrare allo stadio per la finale dei 400 L'ente mondiale con una nota aveva precisato che il periodo di quarantena stabilito per McVa scadeva alle 14 di oggi, 9 agosto, e dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto è stato ritenuto idoneo a competere nei 200 metri McVa ha festeggiato il passaggio alla semifinale subito dopo il traguardo, eseguendo 5 piegamenti sulle braccia al centro della pista McVa ha bloccato prima di entrare nella finale dei 400 m la beffa è doppia per McVa, che non era stato ammesso alla finale dei 400 metri proprio per aver contratto il virus che si è diffuso negli hotel che ospitano gli atleti a Londra Sono arrivato allo stadio pronto per correre ma ho trovato una trappola. Mi è stato negato l'ingresso, ordine del governo e non dalla JAV, ha scritto più tardi McVa sulla sua pagina Facebook Abbiamo lottato tutto il giorno perché la verita venisse fuori. Non sono malato e non sono mai stato visitato da un medico Risorgero di nuovo, ha aggiunto l'atleta del Botswana. La stessa federazione del paese africano ha confermato che non hanno avuto alcuna comunicazione dalla JAV e che McVa non era stato sottoposto ad alcuna visita La federazione internazionale ha replicato attraverso un comunicato, in cui han detto che in realtà medici della squadra del Botswana erano stati informati dello stop all'atleta La JAV è molto dispiaciuta che non sia stato possibile mostrare in pista il duro lavoro e il talento di Isaac, ma dobbiamo pensare al benessere di tutti gli atleti, la conclusione della nota Virus? No, McVa mangia di tutto forse per dimostrare ancora di più il suo buono stato di salute, forse per sfidare la JAV, forse semplicemente per fare colazione Stamattina McVa si era fatto ritrarre mentre si serviva al buffet per la prima colazione, uova, pancetta e cibo in generale non adatto a una persona malata per colpa di un virus gastrointestinale No, Mera Ecco No No Grazie a tutti.